Antonio Zangara di Cinisi, Palermo, paese noto per un martire della mafia, Peppino Impastato, ma Antonio per la mafia ci ha perso il padre, Salvatore, correva l'anno 1983 ed era forse la prima vittima innocente di mafia, dobbiamo spiegare cosa significa perché sono tutti innocenti le vittime di mafia? Mio padre, vittima innocente di mafia, ha riconosciuto vittima innocente di mafia nel 1987 dopo 4 anni di indagine, cosa significa vittima innocente di mafia, in quel periodo non si aveva idea di cosa fossero le vittime innocenti di mafia, per tanti anni io stesso ho avuto difficoltà a capire. Mio padre muore nel 1983, l'8 ottobre 1983 durante una guerra di mafia. Come lo ricordi tu quel giorno? Quel giorno lo ricordo, o meglio, di quel giorno non ricordo assolutamente nulla perché era un giorno come tanti, ricordo semplicemente, di quel giorno ricordo da quando mi hanno comunicato la notizia, da quando era un sabato e io ero con degli amici. Quanti anni avevi? Avevo 18 anni, ero con degli amici e stavo organizzando per andare a mangiare una pizza assieme a questi amici, quando mi incontrano per strada, un ragazzo mi riconosce e si stupisce di vedermi là, si stupisce e mi dice cosa ci fai qua? Io dico, sono andando a mangiare una pizza, ma perché mi fai questa domanda? E lui senza battere ciglio mi risponde, ma guarda che hanno ammazzato tuo padre. Io ovviamente non ci credevo perché mio padre era distante anni luce, io conoscevo mio padre distante anni luce dal mondo della mafia, era una persona che non combatteva la mafia, era un uomo come tanti, era una persona onesta, era un professionista, era un padre di famiglia. Ecco, ti è sembrato non possibile per tuo padre, ma che qualcuno venisse ammazzato ogni giorno era purtroppo storia in quel periodo, vero? In quel periodo era storia, Scinisi così come tutta la provincia di Palermo era il palcoscenico importante di una guerra di mafia senza quartiere, in quasi quattro anni si contano più di mille morti. La guerra tra i cafoni della campagna e i palermitani per bene, vero? Era la guerra dei corleonesi soprannominati per incritate, cioè con le scarpe sporche di terra e il palermitano, la mafia palermitana che in quel periodo era gestita da un triunvirato formato da Badalamenti, Liggio e Bontade, che i corleonesi vogliono scalzare, vogliono prendere il predominio su questo triunvirato e cominciano questa guerra senza quartiere, uccidendo quotidianamente. Torniamo a quel giorno, tu sei arrivato a Scinisi e hai visto la folla, vero? Sono arrivato a Scinisi, scendo dalla macchina e capisco subito che è successo qualcosa di grave perché c'è la piazza gremita di gente, è piena di gente, è piena come se fosse una festa di paese. Io cammino cercando di capire quello che era successo, cerco un cadavere a terra ma non ci sono cadaveri, non c'è nulla. Ancora non credo che sia successo a mio padre, ma nel momento in cui incontro la folla ho la netta percezione che quello che è successo mi ha investito in pieno perché la gente si apre come se io fossi un coltello caldo che attraversa il burro, si allontana da me, fugge lo sguardo, si gira dall'altra parte, non ha il coraggio di guardarmi negli occhi e io sono lì che cammino, continuo a camminare tra la folla cercando che qualcuno mi spieghi quello che è successo, ma non c'è nessuno, fin quando un ragazzo forse ha capito il mio grido d'aiuto e mi è venuto ad abbracciare dicendomi tuo papà è in ospedale, ti accompagno a casa e mezz'ora dopo una volta arrivato a casa è arrivata la notizia che mio padre non ce l'aveva fatta. è stato colpito per sbaglio, c'è stato un agguato di mafia che doveva colpire? Doveva colpire Procopio Di Maggio, allora i killer e i mandanti dovrebbero appartenere alla famiglia Badalamenti, dico dovrebbero perché non c'è una verità giudiziale. Ecco, non c'è stato un processo per la morte di tuo padre? Non c'è mai stato un processo, non si è mai aperto un processo, le indagini sono state volte semplicemente a determinare se Salvatore Zangara era colluso o meno con la mafia. Quindi oltre il danno la beffa? Oltre il danno la beffa, io comunque sono sempre in attesa di giustizia, io credo molto nella giustizia italiana e credo molto nella… Come fai a crederci? Dall'83? Io ci credo, devo crederci, non posso non crederne nella giustizia. C'è qualcuno però che non si è mai fermato nel chiedere giustizia da subito, è tua madre? Mia madre no, mia madre da subito ha cercato di combattere contro tutti e contro tutti, contro tutto e contro tutti, ha cominciato candidandosi subito al Consiglio Comunale di Cinesi, provate a immaginare, siamo agli inizi degli anni Ottanta. Una donna. Una donna a Cinesi, non a Roma o a Milano, ma a Cinesi, vedova che si candida col Partito Socialista al Consiglio Comunale, viene eletta grazie ai tanti amici di mio papà e lì comincia una guerra, comincia a combattere, comincia quotidianamente a essere trattata veramente male, insomma non ha avuto una vita facile, a cercare di portare avanti il nome di mio padre, la memoria, era lei che ancora prima, prima di Libera, prima di quando io potessi pensare all'importanza della memoria già lei ne parlava. Senti, tutta la gente del paese, o quasi tutta esclusa gli amici, in fondo pensava che se l'avevano ammazzato un motivo ci doveva essere. No, questa è una di quelle cose che ho pensato io, ho pensato io perché io per tanti anni ho avuto grande vergogna di avere avuto il papà ucciso dalla mafia. Perché? La vergogna era data dal fatto che non si era mai sentito che una persona potesse essere uccisa dalla mafia per sbaglio, la mafia si uccide, colpisce e non sbaglia, siamo cresciuti con questa visione romantica della mafia, di una mafia che non sbaglia mai, di una mafia giusta, di una mafia che non uccide donne e bambini, siamo stati educati così, siamo stati educati pensando che la mafia Piff la descrive come un cane che se non lo vai a disturbare non ti morderà. Una mafia che vive un mondo parallelo, l'importante è non incrociarla e la mafia non ti disturberà. E quindi l'idea di un morto ucciso dalla mafia per caso, io avevo difficoltà a raccontarlo, io avevo difficoltà a spiegarlo perché sapevo che la gente nel momento in cui dicevo mio padre è una vittima innocente di mafia, è stato ucciso per sbaglio dalla mafia, mettevo immediatamente nella mente di chi mi ascoltava questa frase, ma se l'hanno ucciso un motivo ci sarà. Le indagini però hanno poi escluso quasi subito le possibili collusioni di tuo padre. Hanno escluso quasi subito qualunque collusione ma negli anni a seguire quando io comincerò invece a parlare, la cosa incredibile che è proprio nel DNA della vittima del caso, la vittima del caso non ha una storia di contrasto, non ha una storia che giustifichi in qualche modo questo omicidio se si può usare questo termine, la vittima del caso è aperta a qualunque verità, chiunque può pensare di inventarsi una storia. Cosa si sono inventati Antonio? Allora, tuo papà lavorava in ospedale. Mio papà lavorava in ospedale, era titolare di un laboratorio d'analisi e lavorava in un ospedale. La storia che si sono inventati è che mio padre era stato ucciso perché aveva fornito i camici da medico ad alcuni killer che avrebbero ucciso una persona nell'ospedale dove lui lavorava. ovviamente io non ci ho creduto, lì per lì mi sono sentito anche male, sono tornato a casa e senza dire niente a nessuno sono andato a cercare immediatamente di questo omicidio all'ospedale Santo Spirito di Carini e viene ucciso un certo Natale Badalamenti, cugino di Gaetano Badalamenti. La dinamica dell'omicidio è questa, nottetempo tre killer vestiti da medico entrano indisturbati in ospedale, uccidono il Natale Badalamenti ricoverato il giorno prima per un esame di gastroscopia e escono senza che nessuno si accorgi. Solo che tuo papà era già morto? Solo che mio papà era morto già da un mese e mezzo. Quindi avevano confezionato una verità parallela? Hanno confezionato una verità che se non fosse stato per le date questa verità sarebbe passata e sarebbe stata creduta molto più della mia verità che poi casualmente corrisponde ad una sentenza perché mio padre da vittima collaterale, che anche questa è una parola molto brutta, a me non piace, ha una sentenza collaterale. In una sentenza che vede imputato Procopio Di Maggio, che è la persona che doveva essere uccisa quella sera, il capitano dei Carabinieri che aveva seguito le indagini, nel descrivere i vari attentati ai danni di Procopio Di Maggio, perché Procopio Di Maggio ha subito più attentati, descrive anche quello dell'8 ottobre, parlando di mio padre, perché insieme a mio padre vengono ferite due persone molto gravemente, parlando di mio padre e di queste altre due persone, persone che risultano dalle indagini svolte dal capitano assolutamente strane a qualunque fenomeno di tipo mafioso. Ma erano vittime collaterali? Ma erano vittime collaterali, per le quali avviare un procedimento penale era forse di troppo. Senti, tu hai due figli e a un certo punto hai dovuto parlargli del nonno. Glielo dovevo. Ed è per loro che hai cominciato a pensare che forse qualcosa dovevi dire? Sì, assolutamente sì. Loro sono stati la mia chiave di volta per smontare questa vergogna. Io non potevo e non dovevo avere vergogna. Io dovevo ai miei figli il racconto del nonno. Dovevo raccontare loro chi era il nonno. Dovevo raccontare loro come era morto il nonno. E con grande fatica ho cominciato a raccontare loro, ho cominciato a cercare di farmi forza. E in occasione del venticinquesimo anniversario ho trovato proprio questo, grazie a un mio grandissimo amico, ho trovato la forza di organizzare la prima commemorazione di mio padre, che è quella del venticinquesimo anniversario. E lì per la prima volta mi sono trovato con il microfono in mano. Io speravo tanto che mia mamma ringraziasse per tutti noi la gente che aveva partecipato numerosa. Ma mia mamma in quel momento l'ho odiata moltissimo. Mi ha detto no, hai organizzato tu. È giusto che sia tu a rappresentare noi. E così mi sono trovato per la prima volta col microfono in mano a parlare di mio padre. Un nodo alla gola, le lacrime, ho parlato forse un paio di minuti. Ma è stato quel ghiaccio che ho rotto e da lì si è innescato. Avevi già conosciuto Don Ciotti? Ancora no, lo conoscerò per caso. Perché all'uscita proprio di quella ricorrenza un giornalista locale mi dice, tu dici che tuo papà è una vittima innocente di mafia. Come se fossi io a dirlo e non un documento del Ministero dell'Interno o allora del prefetto. Ma io ho controllato nell'elenco di Libera e tuo padre non c'è. Qual elenco avrai detto tu? Io ho detto qual elenco? Perché io non conoscevo Libera, non conoscevo Don Ciotti, non conoscevo questo elenco. La mia prima volta al 21 marzo è stata una cosa incredibile perché mi sono reso conto di non essere l'unico sfortunato, l'unico sfigato ad aver avuto il padre ucciso dalla mafia per caso. Perché insieme a me c'erano migliaia di persone e scopro che un terzo di quasi e dei quasi mille nomi che ogni anno Libera legge per ricordare tutte le vittime innocenti di mafia, quasi un terzo sono vittime del caso. Che è un numero impressionante, è un numero che a me fa paura perché sono di quelle vittime di cui mai si parla, di cui mai si parla e che invece bisogna imparare a conoscere, a ricordare. Quanto meno non i nomi perché al di là del nome c'è la storia che è importante, la storia che racconta di una mafia che ci riguarda in pieno. Secondo me è importante ricordare tutte le vittime innocenti di mafia, ricordare le storie dei protagonisti, dei grandi protagonisti, quelli che sono Falcone, Borsellino, Peppino in passato, ma non bisogna dimenticare i tanti altri, non si parla mai per esempio di Rocco Chinnici, non si parla mai di Piola Torre, si è quasi dimenticato Carlo Alberto dalla Chiesa, per non dimenticare tutti i poliziotti che sono morti. Questo però non ci deve far passare sopra alle vittime del caso, perché le vittime del caso rappresentano proprio la società civile, rappresentano tutti quanti noi che viviamo la nostra vita da cittadini onesti, ma non per questo non protagonisti del nostro tempo. Senti, perché se la verità è acclarata c'è ancora chi infanga la memoria di tuo padre? Allora, io non penso che ci sia qualcuno che infanghi la memoria di mio padre, perché non ho mai sentito parlare male di mio padre. Tua mamma è stata molto isolata a Chinnici, tu lo sei stato altrettanto? Isolato no, quello che è notato a Chinnici c'è la voglia di non ricordare l'8 ottobre, gli stessi figli delle persone rimaste ferite quell'8 ottobre non vogliono parlare più di quel giorno. Il paese non vuole ricordare quel giorno. Le amministrazioni che si sono succedute non hanno mai voluto ricordarle, tranne breve parentesi. Si figuri, o meglio figurati, che è la targa che ricorda l'8 ottobre 83 è stata messa solo 12 anni dopo. E all'indomani della posa della targa una telefonata amica arriva a mia mamma e dice a Totò ce lo ricorderemo sempre, non c'è motivo di mettere questa targa, Enza toglila la targa, perché Totò esserà sempre nei nostri cuori. E questo non è infangare la memoria? Ma c'è ancora di peggio, perché quella parete per me è un monumento, è un monumento che racconta una storia. C'erano i proiettili nel muro? Sì, ma dopo la telefonata accanto alla targa di mio padre spunto una targa ancora più bella, non a protezione della targa stessa, ma è un monito da andare via. C'è scritto è severamente proibita l'affissione. Ma la cosa incredibile è che manifesta proprio l'oblio, la voglia di dimenticare, l'aver restaurato di una facciata degli anni 30, degli anni 40, solamente la parte crivellata dai colpi di pistole da fucile. Ma la cosa ancora peggiore, che è recentissima, di questo dicembre, il comune di Cinisi, proprio per rispettare, per manifestare quanto rispetti quel luogo, per me sacro e per tanti ragazzi che ogni anno vanno a guardare quella piccola targa, ha installato proprio sotto la targa un bel defibrillatore, perché non si capisce bene il motivo, però ha ritenuto opportuno la parete migliore di tutto il comune di Cinisi per installare un defibrillatore utilissimo alla cittadinanza, è proprio sotto la targa che ricorda mio padre. Senti, secondo te questi sono messaggi? Cioè è ignoranza e volontà di cancellare un passato di cui il comune e gli amministratori si vergognano, perché è un'onta sul paese, oppure è una presa in giro, sardonica per nascondere i mandanti che sono forse ancora in qualche modo pericolosi? No, io sono sicuro che questa è una provocazione ed è dettata dall'ignoranza, perché ricordare ogni anno, l'8 maggio, Peppino Impastato è qualcosa che innalza il comune stesso e l'amministrazione. Ricordare una data come l'8 ottobre, dove muore sì un protagonista di quella comunità, però non c'è nessun lustro, non c'è nessun film, non ci sarà mai nessuna strada, nessuna scuola, nessuna piazza e quindi perché ricordarlo? Quindi l'ignoranza è così forte che… Tu escludi che ci sia ancora una certa reverenza o timore nei confronti di alcuni potenti che hanno a che fare con la mafia? Assolutamente sì, è palese, è visibile tutti i giorni. Procopio, io l'ho vissuto in prima persona, perché io non vivo più a Cinisi ormai da più di 25 anni, però sono sempre lì, l'estate la passo lì, i fine settimana spesso vado in paese e per tanti anni ho incontrato la figura di Procopio Di Maggio. Quello che doveva morire al posto di tuo padre. Molto, a cento anni e io lo vedevo tutti i giorni in piazza che passeggiava e vedevo la riverenza, la riverenza della cittadinanza tutta, dall'uomo più semplice fino ad arrivare ai più… Anche i ragazzi? Anche i ragazzi, anche i ragazzi, tantissimi ragazzi. Tu sei mai stato intimidito Antonio da quando hai deciso di diventare testimone per Libera, di girare per le scuole? No, intimidito no, sono state più che altro queste storie che mi sono venute a raccontare, che mi hanno fatto un po' riflettere, ma sono state quelle cose che mi hanno dato ancora più forza per andare avanti e sostenere. Non hai mai avuto paura? Solamente una volta, ma è stato un fatto un po' così casuale, anche perché è stata dettata quella paura dalla mia stupidaggine. perché ero in un campo di estate liberi, ero un campo confiscato al genero di Procopio Di Maggio e il nipote Procopio era lì davanti al cancello che ascoltava la mia storia. Io avendolo riconosciuto l'ho provocato raccontando del nonno, raccontando chi fosse, raccontando cosa aveva fatto. Qualche anno fa bastava quello per rischiare la vita? Bastava quello, sì, bastava quello, però eravamo in mezzo al nulla, era questo bene confiscato, era in mezzo alle campagne, era almeno a dieci minuti di macchina dal primo centro abitato, forse anche di più. E devo essere sincero, quella sera ho avuto paura nel tornare a casa, ho aspettato, c'era il responsabile del campo che aveva capito la situazione e mi ha detto, non ti preoccupare, ti accompagno io, insomma, però è stato un attimo, è stato proprio giusto per raccontare al bar agli amici di quella bravata che avevo fatto, di questa bravata che avevo fatto. C'è ancora gente che ha paura nella tua terra? Ma secondo me sì, 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 e per fortuna io credo molto nei giovani, io forse perché li frequento tanto, perché frequento tanto le scuole, io vedo un movimento giovanile che sta crescendo. Anche a Cinisi? Sì, anche a Cinisi, anche a Cinisi, io sono in contatto con un gruppo di giovani molto impegnato, molto serrato, devo dire che Peppino ha giocato un ruolo molto importante. Tu dici che se non avessero fatto un film si sarebbero scordati anche di Peppino Impastato? Assolutamente sì, assolutamente sì. Peppino Impastato a Cinisi lo conoscevamo tutti, io non ho memoria di lui. Io non ho memoria di lui, mio fratello che è più piccolo di me invece dice che se lo ricorda perfettamente, io non lo ricordo, io ricordo di lui la trasmissione a Radio Out, ricordo di lui quando mio padre e mia madre ascoltavano la trasmissione a Radio Out, ridevano di cuore, ma il commento finale era a questo lo ammazzano, a questo lo ammazzano. e quando muore Peppino Impastato tutti sapevano in paese, perché io sentivo le voci, io le ricordo le voci, tutti sapevano che Peppino Impastato era stato ucciso dalla mafia, tutti lo sapevano, però la voce che è uscita fuori subito è che era un terrorista, che provava a mettere una bomba sulle rotaie per far esplodere il treno, ma era rimasto vittima della bomba stessa, e Cinisi non ha mai ricordato e mai voluto ricordare Peppino Impastato, Giovanni Impastato ha lottato da solo insieme alla mamma Felicia, o meglio Felicia, la promotrice della figura di Peppino, e hanno lottato da soli contro tutto il paese, contro tutta l'Italia, e hanno portato fino in fondo questa storia di un uomo che secondo me è tra i più grandi protagonisti della lotta alla mafia che l'Italia abbia avuto. E sulla scia di Peppino a Cinisi c'è un movimento giovanile molto bello e molto importante. Come hai fatto pace con tuo papà, Antonio? Ti senti in colpa per aver per tanto tempo taciuto, per non aver per tanto tempo avuto il coraggio di raccontare chi è? È una domanda che mi sono fatto spesso, perché non ci ho pensato prima, perché non l'ho fatto prima, ma io mi sono dato una risposta perché mi piace stare bene con me stesso. Forse io ho cominciato a parlarne nel momento giusto, nel momento in cui ho avuto la maturità giusta per affrontare l'argomento e adesso lo vivo con grande serenità. Io penso che non ho mai litigato con mio padre e quindi non avevo bisogno di fare pace. Bisogna essere anche abbastanza forti per reggere colpi così che la vita ti dà, no? Sì, bisogna avere le spalle larghe. La mafia è morta, è finita, Antonio, come si dice, come si spera, come ci raccontiamo da troppi anni? La mafia è più forte che mai. La mafia è più forte che mai, ha semplicemente cambiato pelle. Qualcuno dice che la mafia è liquida, è camaleontica. Un bambino di dieci anni una volta mi ha fatto una domanda e mi ha chiesto cosa è peggio, la guerra o la mafia? Io non sapevo cosa rispondere. Alla fine dovevo dare una risposta a questo bambino e ho detto in una guerra avrai visto un film di guerra. Ci sono due eserciti che combattono, hanno bandiere diverse, divise diverse, i nemici si riconoscono. Ho detto, tu un mafioso l'hai mai visto? Sai riconoscere un mafioso? E il bambino mi ha detto no. E chi temi di più? Il nemico che non conosci, che non vedi o quello che riesci a vedere, a contrastare, di cui conosci le mosse. La mafia oggi è invisibile. La mafia non la riconosciamo più. Facciamo fatica noi siciliani che abbiamo un po' gli anticorpi per riconoscerla. Facciamo fatica. Grazie Antonio. Qual è la canzone che ti racconta? Allora, quest'anno è il ventesimo anniversario della morte di De Andrè. Io avevo pensato a smisurata preghiera, che è un'estrema invocazione per far capire cosa passano gli ultimi. Qualcuno ascolta lassù? Sicuramente sì. C'è una cosa che non ti ho chiesto e che invece fa parte della tua storia. Tu hai invocato più che nominato Salvatore, in nome di tuo papà, davanti al Papa. Mi è successo il secondo anno che ho partecipato al 21 marzo. Il 21 marzo si svolgeva a Latina e l'assemblea plenaria che ogni anno prima del corteo facciamo noi familiari l'abbiamo fatta a Roma, nella chiesa di San Gregorio, ed è venuto a trovarci il Papa. Io mi sono ritrovato all'altare a leggere il nome di alcune vittime innocenti di mafia e tra questi nomi c'era il nome di mio padre. Lì mi è successo qualcosa che ancora oggi non mi spiego. Sono sceso dall'altare e mi sono catapultato verso quello che pensavo fosse una dirigente di Libera. A me in Libera non mi conosceva nessuno, a cui ho chiesto che volevo fare qualcosa di più per Libera. Non sapendo cosa, però mi ero messo a disposizione e avevo aperto le braccia a Libera. E allo Spirito Santo che agisce a modo suo. Grazie Antonio.